Ma io non riesco a tirarti fuori Allora provo, Italia-Zelanda 4, Victor-Quebec-Sierra 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 Ok, allora speriamo che sia questo, eh Italia-Zelanda 4, Victor-Quebec-Sierra Perfetto, perfetto Inco RP importatile Sulla vetta del Monte Chiaro, provincia di Parma Ottimo segnale per te Apparato autocostruito, non posso essere più preciso per il rapporto Ok, allora, Italia-Chilometro 8 Hotel Charlie-Zelanda 4, Victor-Quebec-Sierra Ripasso il progressivo 6-4-7 Ripeto, 6-4-7 Questelle Questelle, ricevuto 6-4-7 Grazie e buona domenica Allora, Italia-Zelanda 4, hai copiato il 6-4-7 Affermativo, affermativo 6-4-7, perfetto Grazie ancora Grazie a te, scusami, eh Ma ti ripeto, c'ho un QRM 9,20-9,40 qui Ok, grazie per la pazienza con il QRP Buona giornata Grazie a te, buona domenica Ciao Paolo Ciao